La nuova micromobilità elettrica si presenta a Vicenza come un fenomeno nuovo. Il via vai di piccoli mezzi cresce di giorno in giorno grazie all'incentivo messo a disposizione del governo e questo ha aperto nuovi scenari. Proprio da qui nasce l'interrogazione presentata dal consigliere del gruppo ministro Andrea Berengo che chiede sicurezza sia per chi utilizza questi mezzi che per chi ne convive nel traffico quotidiano. È un fenomeno che si è sviluppato nel momento in cui nel decreto rilancio è stato introdotto questo articolo 229 che di fatto va a incentivare l'utilizzo e quindi lo sviluppo della micromobilità elettrica sotto varie forme in particolare l'utilizzo del monopattino attraverso un incentivo, un bonus, che va a corrispondere al 60% della cifra investita. Sicuramente ne trae vantaggio l'ambiente che vede drasticamente ridotte le emissioni di smog. Lo stesso vale per mezzi pubblici e privati che vengono accantonati a favore dei nuovi e più pratici strumenti quali ad esempio biciclette elettriche, monopattino, segue, monowale, overworld e molti altri ancora in grado di effettuare il trasporto in velocità risparmiando dunque tempo e denaro. In Vicenza lo sviluppo di questo fenomeno è ancora contenuto. Probabilmente con l'inizio delle scuole, se le scuole riapriranno, ci sarà chiaramente un intensificarsi del traffico e probabilmente ci sarà qualcuno che penserà di utilizzare questa forma di mobilità. Vicenza è una città che per il momento ha uno sviluppo contenuto rispetto ad altre città del Veneto. Mi riferisco in particolare a Padova dove questo fenomeno si è veramente molto diffuso e si vedono spesso zigzagare tra le auto questi monopattini in situazione anche di pericolo. Tutto positivo dunque? Non proprio perché se da una parte ci sono i vantaggi di risparmio e dall'altra si apre un capitolo alquanto complicato che riguarda le norme che regolano l'utilizzo di questi oggetti. Di fatto non esiste un vademecum e come chiede il consigliere Berengo servono delle linee guida su cui agire, onde evitare danni a cose o persone nonché incidenti che potrebbero costare molto caro. Si è pensato di lanciare questo fenomeno, di diffondere questo fenomeno senza porre però delle regole precise. Quindi vediamo sfrecciare a velocità sostenute queste specie di scooter, questi monopattini che tra l'altro hanno ruote molto piccole e quindi anche con le situazioni di buche nell'asfalto creano un pericolo non solo all'utilizzatore ma anche agli automobilisti o agli altri utenti della strada. L'interrogazione per fare in modo che l'amministrazione attenzioni questo fenomeno nel caso poi si diffondesse ancora di più attraverso la sensibilizzazione di utilizzo almeno del caschetto un caschetto tipo ciclistico in modo tale da proteggere la testa di chi lo utilizzasse e poi se possibile in ANCI quindi a livello nazionale attraverso una comunicazione più diffusa per la possibilità di poter assicurare gli utilizzatori di monopattini in modo tale che sia garantita nel caso in cui dovesse succedere un incidente un risarcimento al danno. Grazie